Nel mondo della giustizia piemontese c'è una questione di grande attualità, il caso Eternit. Con la derubricazione del capo d'accusa da omicidio volontario a omicidio colposo, la Cassazione di fatto ha rimandato indietro il processo. Sarà celebrato in quattro tribunali diversi, tra i quali quello di Vercelli. Ci sarà un gran lavoro da fare, sarà lungo, articolato e complesso. Facciamo il punto con il presidente del tribunale di Vercelli, Antonio Marozzo. Stiamo cercando di attrezzarci e soprattutto di reperire un'aula dove il processo possa essere celebrato. La gran parte delle vittime dell'amianto era residente nel circondario di Casale Monferrato che è stato assorbito da Vercelli e quindi noi avremo un gran numero di parti civili. Il processo sarà sicuramente rilevante non tanto per il numero di avvocati quanto per il numero di parti che essendo peraltro molto vicine come residenza io credo che interverranno come è già avvenuto nella fase svolta sinanzi al tribunale di Torino. Quindi ritengo che la prima, che la priorità sia quella di reperire un'aula sufficiente ad accogliere almeno qualche centinaio di persone che hanno il diritto di partecipare come parti civili sia in un'eventuale udienza preliminare che non sappiamo se ci sarà ma riteniamo che dovrebbe esserci e sia comunque in una fase dibattimentale. Ci saranno poi sicuramente delle ripercussioni sull'organizzazione del tribunale nel senso che un giudice, presumo prima un giudice dell'udienza preliminare e poi un giudice del dibattimento saranno impegnati in un processo che per la sua rilevanza, per il suo peso sicuramente li impegnerà a tempo pieno quindi ovviamente il resto del lavoro dovrà gravare sugli altri giudici, problemi anche di personale di cancelleria eccetera. Ma ripeto la priorità per la quale ci siamo già attivati è quella di reperire un'aula, un luogo dove possa essere celebrato il processo. Non sappiamo ancora i tempi entro i quali la Procura della Repubblica ci richiederà il rinvio giudizio o la situazione di urgenza preliminare ritengo che siano abbastanza prossimi. Il caso Eternit ripropone di fatto una vecchia questione, quella dell'adeguatezza delle strutture e dei luoghi. Qual è la situazione a Vercelli? Beh diciamo che il processo Eternit è sicuramente un caso particolare nel senso che anche in un'eventuale struttura più efficiente dimensionata sulle esigenze del circondario di Vercelli non dovrebbe essere prevista una maxiaula che possa accogliere 500 persone. Quindi sarebbe comunque un'emergenza straordinaria. È chiaro che noi abbiamo vissuto e stiamo vivendo particolari difficoltà perché la struttura è estremamente vetusta. È in corso un progetto per la realizzazione di nuovi uffici giudiziari nell'ex Caserma Garrone. Ci sono dei tavoli diciamo di trattativa, un protocollo d'intesa per cui il demanio è seriamente intenzionato a effettuare questo tipo di investimento. Quindi stiamo studiando operativamente una eventuale distribuzione, una eventuale allocazione di tutti gli uffici giudiziari. Nel contempo stiamo cercando, e la trattativa è in fase molto avanzata, di poter spostare l'ufficio di sorveglianza, l'ufficio dei giudizi di pace, che sono anche in situazioni precarie. Dovremmo riuscire, dovrebbe essere previsto l'avvio dei lavori per il prossimo mese, dovremmo riuscire anche a recuperare una parte di questo palazzo che è attualmente inagibile, con dei lavori straordinari di manutenzione da parte del provveditorato regionale, per i quali sono stati già stanziati i fondi ed è stato già approvato il progetto. C'è poi il problema annoso della carenza di organico e di personale, è una situazione comune a quella del resto d'Italia, facciamo il punto anche su questo aspetto. Sì, come ha detto lei, è un problema generale, nel senso che la scopertura media in Italia si aggira sul 30-40%, e qui non ci discostiamo da questo dato, abbiamo una scopertura di circa il 34% nei vari ruoli del personale di cancelleria. Questo perché negli anni si è pensato, contrariamente a quello che è avvenuto in altri settori, invece nel settore giustizia non si è assunto un nuovo personale per molti lustri, solo recentemente sono stati banditi delle riqualificazioni e un concorso nazionale per assistenti. Il concorso che sarebbe necessario forse bandire con cadenza annuale per rimpiazzare gli organici, invece erano circa, se non erro, 20 anni che non si verificavano nuove emissioni. Quindi è ovvio che abbiamo un personale anche abbastanza attempato, nel senso che tanti sono prossimi alla pensione, che non è stato nel corso di questi anni ricambiato. Si è pensato evidentemente che l'introduzione del processo telematico potesse attenuare le esigenze di personale, ma non è così, nel senso che sicuramente è cambiata la qualità del lavoro, che non si vedono più quelle file di avvocati davanti alle cancellerie, in particolare ai civili, in attesa del decreto ingiuntivo o dell'iscrizione della causa. Ma le esigenze di gestione dei fascicoli, anche telematici, da parte del personale, sono rimaste inalterate, anzi sotto certi aspetti sono aumentate o comunque sono diverse, ma non sono meno importanti. Senza contare che ormai anche in virtù della tecnologia informatica l'assistenza in udienza è praticamente limitata al solo settore penale e che facciamo fatica a poter tenere un numero di udienze sufficienti perché non abbiamo personale che possa fare assistenza alle udienze. Quindi il personale giudiziario, devo dire, nella massima parte, ma questo non solo a Vercelli, anche nella mia esperienza di altri uffici, lavora con grande spirito di servizio, grande spirito di abnegazione. Però non vediamo assolutamente un grosso ausilio da parte del Ministero, nel senso che si pretende con pochissime risorse umane di far fronte alle pendenze e anzi a cercare di aumentare i ritmi e di eliminare l'arretrato. Grazie. Grazie.